Per tutti i genitori non c'è gioia più grande che vedere i propri figli crescere sani e felici. Alcuni però vivono con la paura di perdere i loro bambini a causa di malattie genetiche rare e gravi e senza una cura. Io mi auguro che questa ricerca continui, mi auguro che la cura venga trovata e ci arriveremo. Fai una scelta che cambierà molte vite. Dona ora 10 euro al mese su teleton.it Facciamoli diventare grandi, insieme. Grazie a tutti.